Non dovete smettere domani di utilizzare il telefono, utilizzare Instagram, perché A è probabilmente impossibile per molti di voi che ci stanno tante ore e B non è del tutto positivo, perché non è detto che se io non ci sono nei social non comunico niente, anzi non comunicare è l'emblema della comunicazione, no? Buona serata, benvenuti ragazzi. Allora, siamo qua per una serie di iniziative, per presentare il nostro progetto di cui faccio parte oramai da otto anni, che è la Giovana Italia, ma anche parlare chiaramente con Michele Sbravati, che è responsabile del settore giovanile, un po' di questa situazione, ma anche del tema che poi ci introdurrà Davide D'Amaso. Si tratta anche di un po' perimetrare il raggio d'azione dialettico, ma soprattutto, come poi vi spiegherà Davide, cercare anche di educare le nuove generazioni che fanno calcio a un linguaggio consono, soprattutto visto che si sta parlando di ragazzi che fanno, o si spera, faranno i professionisti. Mi fa molto piacere che ci siano delle fanciulle in prima fila, il libro per noi da quattro anni si apre con le ragazze, del calcio femminile. Lascio la parola a Davide perché quello che fa è molto interessante, ma credo che sia soprattutto un modo intrigante di interagire con le vostre generazioni. Io mi occupo di un tema soltanto, che è un punto di tanti temi, che è la reputazione online, no? Di questo mi occupo con il mio aspetto lavorativo, con personaggi famosi e in questo modo bisogna pensare a quanto c'è utile l'online, no? E quanto potenzialmente fa della vostra immagine. Perché quello che io vedevo a scuola è che ha creato quello che adesso si chiama movimento etico digitale, ovvero un gruppo di 150 persone come me, che vanno nelle scuole, principalmente medie e superiori, e parlano di potenzialità e rischi del web. È proprio il fatto che non dovete smettere domani di utilizzare il telefono, utilizzare Instagram, perché A è probabilmente impossibile per molti di voi che ci stanno tante ore, e B non è del tutto positivo, perché non è detto che se io non ci sono nei social non comunico niente, anzi non comunicare è l'emblema della comunicazione, no? E allo stesso tempo quindi riuscire ad usare il web invece in modo positivo, i social in modo positivo, può essere anche un'arma in più, può essere un'arma in più per la vostra popolarità, può essere una mossa in più per costruirvi un futuro dopo il calcio potenzialmente, può essere un modo di trovare connessioni con persone che vale la pena conoscere, iniziare a cambiare il modo quindi in cui si educa all'uso consapevole dello smartphone. Bisogna aggiornarsi, bisogna aggiornarsi sulla metodologia in campo, bisogna aggiornarsi sulla comunicazione con i ragazzi, comunicazione strettamente calcistica, bisogna aggiornarsi anche in virtù di queste nuove forme di comunicazione moderna che portano, che nascondono pericoli, che nascondono situazioni spiacevoli in cui come diceva giustamente Davide possono andarci di mezzo sia i singoli sia soprattutto la società che rappresentano. Quindi noi dobbiamo essere molto attenti, lo siamo, abbiamo introdotto alcune regole sicuramente, tra virgolette, restrittive che ci consentono di essere parzialmente tutelati, anche se giustamente ho notato nell'intervento di Davide due aspetti fondamentali, la non comunicazione attraverso il silenzio che effettivamente è una comunicazione, però al tempo stesso, siccome le parole hanno un peso importantissimo, sia quelle dette che quelle scritte, i social possono creare problemi sia attraverso le parole parlate, sia attraverso le parole dette, sia attraverso le parole scritte. Quindi sotto certi aspetti il silenzio un pochino ci tutela. In questo momento, come ho detto prima, è diventato un fenomeno molto importante per la nostra società, bisogna stare attenti a fare qualsiasi cosa perché, appunto come ha fatto l'esempio di Inzonzi, adesso la gente già non vede l'ora magari di criticare per qualsiasi cosa, quindi meno si dà l'opportunità di far parlare magari le persone, meglio è. Da quando c'è Instagram, così lo utilizzo spesso, tutti i giorni, però non pubblico molte foto, tipo per adesso l'ultima foto che ho pubblicata è il 28 gennaio dopo una vittoria a Empoli, quindi non sono molto attivo, però nei momenti liberi sono di che guardo, ecco. E non so neanche per qual motivo, sinceramente, però non sono molto interessato alla cosa, quindi preferisco farmi gli affari miei e non mettere quello che faccio magari durante il giorno. Un ragazzo medio dai 12 ai 18 anni sblocca 120 volte al giorno il telefono. Guardate quante ore state sul telefono e vi domandate, ma in questo tempo qua, due ore, tre ore, quattro ore, cosa avrei potuto fare in effetti di meglio probabilmente o di più utile per la mia forma fisica, per il mio cervello eccetera, per chiaramente, cioè piuttosto di passare quattro ore, cioè due ore su Instagram in effetti, prendere un po' di quel tempo sarebbe stata una mossa giusta. No, è la stessa domanda che mi faccio anch'io. Anche pensiamo in effetti a quante ore stiamo sul telefono. Molto spesso ragazzi della vostra età, non facendo sport, stanno molte più ore di voi. Hanno fatto una statistica interessante quelli di Confindustria che hanno determinato come un lavoratore su tre, cioè un colloquio su tre diventa negativo dopo aver visto i profili social. Quindi in effetti questo ci fa percepire uno su tre, diventa negativo perché quindi curriculum a posto eccetera eccetera, vedono il profilo social scartato, cioè ci deve far pensare a qualcosa. Allo stesso tempo in questo uno su tre, giusto per darvi un qualcosa in più, è che per certi lavori è importante avere il profilo social, tipo non so, lavori creativi, grafici eccetera, non avere il profilo social ti auto esclude allo stesso tempo, vedete. Grazie a tutti.